Ciao a tutti amici di PIV, siamo qui nella discoteca del Hotel Casino Perla. Si sta giocando il tavolo televisivo che riprendo per un attimo dall'alto per non disturbare. Potete seguirlo in diretta su Pocket Italia Web nella sezione del forum dedicata al DeepStack Pro organizzato da Assol Gold e sponsorizzato da GiocoPiù. Trovate la sezione Tavolo Streaming in diretta e potete seguire anche voi un po' del torneo, questo tavolo televisivo, si vedono anche le carte, naturalmente c'è una piccola differenza per lo streaming, seguiamo un attimo insieme dall'alto. E vi aspettiamo, come sempre, in diretta su Pocket Italia Web dove potete seguire anche il video blog live. Ciao a tutti.